Il soccorso alpino di Asiago è intervenuto per soccorrere un escursionista infortunatasi sul sentiero, che va da Forte Campolongo al rifugio che ne porta il nome. Una squadra di soccorritori assieme a due carabinieri forestali di Roana, dopo essere arrivata in fuoristrada al forte, è scesa a piedi e ha raggiunto l'escursionista, una 51enne di Calvene, che lamentava forti dolore e una gamba. La donna è stata imbarellata e portata fino all'ambulanza.